La stabilità delle reti dipende in buona misura dall'esistenza di interconnessioni tra gli stati, ma anche dall'insieme di regole, di procedure, di metodologie condivise che consentono poi l'esercizio di sistemi elettrici in maniera integrata e coordinata. Quindi come associazione dei TSA del Mediterraneo noi stiamo cercando di mettere a punto l'insieme di regole e metodologie condivise che facilitino la definizione di piano interventi di sviluppo regionale e che facilitano altresì l'ottimizzazione delle infrastrutture elettriche già presenti.